Oggi è l'11 dicembre, la giornata internazionale della montagna. Ecco, una giornata che in Italia dovremmo festeggiare con fuochi di artificio, grandi feste e, come dire, grandi discorsi delle istituzioni, perché l'Italia è per oltre metà montagna, va bene? Ma il silenzio è parecchio forte. Allora, voglio ricordarlo con questo librino di Laura Conti. Laura Conti è stata un ambientalista degli anni Ottanta, una figura molto forte, una donna, un medico che si è battuta molto duramente, calcando le vesti di un ambientalismo, come dire, militante, mi piace molto dire così, anche che non amava il compromesso, ma amava far capire i valori dell'ambiente e grazie a loro sono andati avanti tantissime battaglie, sono andate vinte. Bene, a un certo punto parla di montagna, anzi, per parlare di montagna parla di un meccanismo che è quello dell'economia, no? Che si mangia letteralmente, lei diceva che l'economia era antitetica all'ecologia. Bene, è un'economia che si mangia a morsi tutto quello che è risorsa naturale. E per convincerci di questo fa un esempio che riguarda proprio la montagna, che vi leggo a proposito di questo meccanismo dell'economia che, come dire, si mangia tutto. Il meccanismo economico fa sì che si preferisca acquistare a buon prezzo piuttosto che a caro prezzo e questo porta ad acquistare carne di un grande allevamento di pianura piuttosto che carne proveniente da una piccola stalla di collina. In pianura l'allevamento costa meno, infatti, per molti motivi che qui non occorre ricordare. L'allevatore di collina o di montagna, incapace di sostenere la concorrenza, cosa fa? Abbandona la sua terra e scende al piano per trovare un lavoro che gli permetta di vivere meglio e con meno fatica. Il risultato è la degradazione della montagna, che va dall'incendio dei boschi sui quali non c'è più la vigile sorveglianza del montanaro, allo smottamento di terra, alle alluvioni, all'invasione delle vipere nel villaggio abbandonato e così via. Per degradare l'ambiente, per abbandonare i boschi all'incendio, i prati allo smottamento, le valli alle alluvioni, i vecchi villaggi alle vipere, è bastato un cieco meccanismo. Per ricostruire l'ambiente occorre una volontà, una volontà basata sulle conoscenze scientifiche e capace di esprimersi in atti politici ben coordinati. Capite no? Capite la saggezza ma anche la lungimiranza, saper vedere e non lavorare sugli effetti, cercando di ripararli ma risalire alle cause, scoprire che la montagna non muore perché è la montagna stessa a far male a se stessa, va bene? O perché per velleità strane, no, muore perché è la pianura, come dire, è il modello di sviluppo superurbano che la uccide. Ecco, quindi, come dire, ci sono delle responsabilità che stanno altrove, c'è una disgiunzione che non vediamo, Laura Conti la vedeva, parlava di questo meccanismo ed è molto bello, secondo me, come dire, ricordarla proprio oggi, 11 dicembre 2020, una donna, un ecologista, un medico, una militante.